Già era nell'aria, ora arriva allo sfratto dal comune di Pescara. 15 giorni per lasciare la struttura di via Rubicone, centro ricreativo dedicato alle persone diversamente abili. Al suo posto nascerà un asilo nido. Incontriamo Cristina Celsi, presidente dell'associazione Sottosopra. Ci racconta una vicenda che va avanti da tempo. Allora, i locali sono oggetto di un progetto per la realizzazione di un asilo nido. Quanti ragazzi, quante persone vengono assistite qui? Allora, per quanto riguarda i laboratori sono una decina di ragazzi, mentre per quanto riguarda il servizio di trasporto sono una trentina di persone che sono servite con il servizio di trasporto. Cosa vuole chiedere al comune? Allora, il comune di sua spontanea volontà ha proposto due locali che purtroppo non sono adatti secondo noi alle nostre esigenze, soprattutto non alle nostre esigenze personali, ma alle esigenze delle persone disabili. E quindi noi, come dicevi tu, non è che facciamo, che non vogliamo andare via da qui, ma cerchiamo solamente dei luoghi adeguati dove i ragazzi possono svolgere le loro attività. Cristina vuole rivolgersi anche ai privati per non vanificare quanto fatto in otto anni. D'altronde la stessa associazione ha portato migliorie a questi locali. Allora, noi sì, come dicevo anche al comune, abbiamo delle carrozzine elettroniche, abbiamo carrozzine abbastanza ingombranti, abbiamo rifatto il bagno per disabili a norma, abbiamo subito due furti e uno scasso e quindi abbiamo messo l'allarme. Diciamo che qui, in questo locale, abbiamo speso 10.000 euro. È vero che noi qui siamo stati gratuitamente, però penso che ci abbiamo anche investito. Cioè, tutti gli anni abbiamo ritinteggiato le mura, pulito il giardino, tutto a spese nostre, insomma. Ma, appunto, noi non chiediamo di rimanere qui, perché figuriamoci se ci mettiamo a fare le lotte per un asilo nido. Chiediamo anche noi un posto adeguato a noi.